In questo anno scolastico 2014-2015 la classe terza meccanici per la prima volta ha iniziato a frequentare l'officina di macchine utensili. Nel primo quattrimestre abbiamo accuratamente trattato il tema della sicurezza in ogni suo aspetto, come l'uso dei dispositivi individuali di protezione e soprattutto il corretto comportamento che l'operatore alle macchine deve assolutamente tenere. Dopo l'argomento della sicurezza gli studenti hanno iniziato ad operare sui torni effettuando delle piccole lavorazioni. L'obiettivo è stato quello di imparare i movimenti manuali e l'uso dell'avanzamento automatico degli utensili. Nel secondo quattrimestre abbiamo disegnato, progettato e realizzato un albero meccanico con tornitura cilindrica, conica ed eseguito una filettatura. Successivamente abbiamo realizzato la lavorazione di una bussola conica per effettuare con l'albero meccanico un accoppiamento conico filettato. Prima di terminare la costruzione della bussola, gli studenti della terza meccanici hanno effettuato sull'albero meccanico, nel laboratorio di trattamenti termici, il trattamento termico di tempra diretta in olio. Le fasi di questo trattamento termico degli acciai vengono presentate in questo video. All the men come in these places Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.